Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce e mamma che trucco Oggi video tag, taggata e ti ringrazio tanto da Marianna Leto che ti mando un bacio grandissimo a distanza Ti saluto, vedo sempre i tuoi video, ti ringrazio tanto, ho avuto un pensiero carinissimo Arriva purtroppo con ritardo perché ho avuto un po' da fare in questi giorni Mi sono data le pulizie di brutto, mi sono fatta le mie belle pulizie di primavera Mi sono tolta il pensiero e va bene così, andiamo velocemente a iniziare Premetto già che stamattina registrerò un po' di video Quindi ecco, se mi vedete vestita allo stesso modo non ci fate caso, ne approfitto Se vi dovesse piacere il mio trucco, l'ho realizzato interamente Perché poi mi sto dilettando in questi giorni a casa, sto provando cose nuove Oppure cose che avevo acquistato e mi sto lì in attesa di utilizzarle Poi gli affani della vita quotidiana, sempre difetta, me le ero proprio dimenticate E in particolare sto utilizzando questa palette che mi sta dando grandissime soddisfazioni Della Color Caramel, che è una marca completamente bio Con 12 mesi di pao, questa è la T271 Insomma non mi ricordo che... Allora di queste qui, vedete, fatta così, dietro c'è lo specchio Ce ne erano diverse colorazioni La media, la più chiara e la più scura Questa è la media E vi assicuro che è carinissima Io l'ho utilizzata anche per il trucco occhi Intensificando verso la fine dell'occhio Soltanto con un marrone preso così dalla mia palette perfetta Qui che ho sempre, quando mi servono anche ombretti singoli da aggiungere E vi dico la verità, è carinissima Soprattutto per un trucco veloce, fresco Da tutti i giorni, per dentro la casa Perché uno non vuole, vuole darsi giusto quella rinfrescata Ma non vuole esagerare Ottima, quindi ve la consiglio Il prezzo è, si aggira intorno ai 28-30 euro Non mi ricordo, ma assolutamente a mio avviso Ben spesi Tenendo presente che è anche bio Quindi non l'avevo minimamente calcolata L'avevo presa, sì, magari comoda per i viaggi Il cartonato bello resistente Ma vi assicuro che ci fate un trucco praticamente quasi completo Quindi, perché poi è terra, blush, illuminante Proprio base E mi sta dando grandi soddisfazioni Così, giusto un accenno di make up sempre Andiamo velocemente Quindi il tag era sulle 10 cose che farò dopo questa quarantena forzata 5 ecco, più serie E 5 più futili Meno serie Tenendo presente che stamattina c'è stata la notizia Che c'è stata la chiusura ecco dei negozi E di tutto Il prolungamento di questa quarantena Fino al 14 aprile È bella tosta Però ragazze, tenete duro Purtroppo non possiamo fare altrimenti forza E coraggio Positive e propositive Mi sembra lo slogan Del dopo guerra Quelli lì degli anni là Che erano Ai che niti Io posso farlo Insomma, più o meno quello Sono io, sono molto meno bella E molto meno magra Va bene Andiamo così Me le sono segnate Perché l'età e la memoria Iniziano a cedere Allora La prima cosa più importante Quella più seria Quella di cui sento troppo Troppo, troppo La mancanza Sarà Voce del verbo Abbracciare Quindi devo abbracciare Letteralmente Fisicamente Mia nonna Mia mamma Mio padre Ma soprattutto Devo abbracciare fisicamente Le mie amiche La Io non credevo Ma è davvero dura Io riesco Ecco A non fare le videochiamate Con mia madre Con mio padre Me le fanno più loro a me Ecco Piuttosto che Con le mie amiche Mi mancano tantissimo Noi facciamo la chiamata A tre E Me le devo strafazzare Tutte ragazze Quindi pronte Perché vi stritolerò Perché mi mancate Da morire Io so che loro vedono Tutti i miei video So che mi seguono così Ma Non basta Noi avevamo Un giorno Fisto a settimana In cui ci incontravamo E ci strapazzavamo Facevamo le cose più assurde Prendevamo in giro Alexa Insomma Tutta una serie di Di cose che mi mancano Mi mancano tanto Allora quando Ci sono queste situazioni Di emergenza Voi capite Realmente Dove sta Le piccole cose No? Che davate per scontato Non Non le date più per scontato Capite l'importanza Io ho avuto questa fortuna Come hanno pochi Purtroppo Di incontrare loro E questa E questa Amicizia si sta rafforzando Ancora di più Durante questa Clausura Forzata Perché purtroppo Non possiamo vederci E Veramente Ci sentiamo Nei momenti di sconforto Ci sosteniamo A vicenda Ci Certe volte Io ho anche detto Qualche parolaccia Perché io sono così Come mi vedete Verace Sincera E loro Mi hanno Sostenuto Mi hanno detto Ragazzi Se esaggiano Me lo dite E loro No no Ma a noi ci piaci Per quello che sei Quindi secondo me Questa accettazione Incondizionata E la reale Amicizia Non vi pensate Che solo perché Io vi sorrido E vi faccio forza Non abbia I miei momenti Giù Diciamo così Ho avuto diversi momenti Ma Ne parleremo Con calma Poi man mano Poi Secondo punto Io purtroppo Conduco una vita Molto frenetica Quindi spesso E volentieri Dico Ma no dai Non facciamo La domenica A casa nostra Andiamo da tua mamma Da mia mamma Perché è più comodo Dopo devo pulire Mettere in mezzo Nel domenico Il mio unico giorno libro Quindi La seconda cosa Per me è molto importante Ho intenzione di fare Una riunione di famiglia A casa mia Bordello Risa Tutti insieme Tutto un abbraccio collettivo Perché non ci dimentichiamo Il verbo abbracciare Che ripeto Io prima Non ci facevo nemmeno Più di casa Lo davo per scontato Queste no Dimostrazione di affetto Invece no Non vanno dato per scontato Ricordatevi ragazzi Sol chi non lascia Eredita ad affetti Poca gioia Dell'urna Quindi Va bene Siamo allegre Siamo su Quindi una riunione di famiglia Festeggiare A casa mia A casa mia Con i parenti Tutto Mia nonna Mia zia Norro Zia Norro Anche a te Abbracciare Mi ero dimenticata La più importante Non vedo l'ora Ci stritoliamo A vicenda Tu pensavi che me ne ero dimenticata Invece no Io ti davo Praticamente Per scontata Cioè probabilmente La prima persona Che abbraccerò Sarai tu Poi le mie amiche E poi la mia famiglia Va bene Su facciamo uscire Una risata Poi Un viaggio Con mio marito E mio figlio Perché ci stavano i programmi Dovevamo partire La prima settimana Di aprile Non potremmo più farlo Dovevamo andare A Parigi Da mia sorella Perché lei abita lì E avevo promesso Ecco a mio figlio Che l'avrei portato A Disneyland E lui Ci è rimasto malissimo Ovviamente Che non possiamo più andare Che il viaggio È rimandato E quindi Per me è una cosa Importante Fare una cosa No Solo noi tre Di famiglia Un viaggio Qualcosa di rilassato Di 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 bello Di Di familiare Voi dite Ma Questa Chiusura A casa Con la famiglia Non è abbastanza No Perché ecco Portarlo in un posto diverso Farlo svagare Fai Amore Corri Respiri È un'altra cosa Poi Un'altra cosa Che dovrò fare Perché ormai Me ne Me ne sono fatta una ragione Sarà vendere la mia macchina Perché io fino adesso Con mio marito Ho un po' tenuto il punto Perché noi avevamo Io avevo una smart cabrio Vecchissima Avrei avuto 15 anni Però Mi c'ero affezionata Perché mi ricordava L'ho acquistata Quando ho iniziato a lavorare Già usata Poi tra parentesi Però Ricordavo Ecco un momento Mio di indipendenza Di gioventù Praticamente Da rivo Quello Il tetuccio Sempre abbassato Un poco aperto Perché proprio A me piaceva Alzare lo sguardo E vedere il cielo Quindi Cambio automatico Quindi Si guidava da sole Era un giocattolino E quindi Mio marito Giustamente Ha detto No Sono passata Ad essere una pamba Che ho comprato Stesso in famiglia E Sempre usata Tutto Però ecco Dice Mio marito È una macchina Più da signora Più da mamma Di famiglia Devi andare avanti Quindi ecco Devi lasciare andare Io ho difficoltà No? A lasciare andare Le cose Le mie cose Però in questo periodo Ho capito Che Che non sono le cose No? L'importante Non Non è che Vendendo la macchina Non sono più giovane Non sono più spensierata Non posso più alzare gli occhi al cielo Quindi voglio dire Va bene così E poi Il quinto E ultimo Dulcis in fundo Punto per me Importante E non ve lo dico Rimarrà un punto di domanda Sorpresa Se mi seguirete Lo scoprirete È un progetto Che ho in mente Da un po' E che piano piano Ecco Non riguarda il canale Ecco Riguardo alla mia vita Privata È un progettino Che stiamo Valutando E insomma E poi Seguitemi E ne saprete di più Non vi voglio anticipare nulla Poi E adesso Arriviamo Ai cinque punti Più divertenti Più leggeri Più Penserete che sarà Fare shopping Il primo punto Invece no Gli ho messi in ordine Di importanza Il primo punto È Insieme Ceretta Il parrucchiere Cioè ragazzi Insieme Non voglio sapere niente Io ho un estetista Che viene a casa Ciao Rita Mi manchi Mi manchi Rita Mi manchi E da qui Sono dipendente Mi sto facendo il baffetto Ecco qui le prove Praticamente Più Le stragi Strappini Ma Più che Quando venivi tu Sono disperata Sono un'inghiaccata Non sono capace Vabbè Ok Detto questo Andiamo Di silk e pilla Ma dopo un po' Andremo di la metta E dopo Dopo Sono dolori Dopo Ok È il parrucchiere Perché Sono incredibilmente Riuscita a portare a casa Un risultato Decente Non vi dico Quello che ho combinato Qua vi faccio fare Due risate Mi soffermo un attimo Allora Fermo restando Che Annalisa Che è la ragazza Che mi fa i cabelli Dal mio parrucchiere Annalisa Annalisa Non potrò mai Ottenere un liscio Ho un'onda Come me la fai Tu mi manchi Mi manchi tanto Ti penso Ti penso sempre Sei la persona Che più mi manca Per la serie Io adesso sono in quarantena Ma Sabato Finisce la mia quarantena Tra virgolette Ecco E dovrò tornare al lavoro Quindi lunedì Io rientrerò al lavoro E Devo andare Con una cosa decente Perché se no Sono dolori E Praticamente Io ho avuto Un attimo ecco Di crollo Quando i miei capelli Erano così Quindi ve l'ho fatto vedere Nei video precedenti Facevo la coda Non stop Addirittura Mio marito Non se potevo guardare Perché in genere Io ci tengo a essere Presentabile Anche in casa Soluzione Mi sono messa a pulire Stavo nervosa Mi sono sfogata Con delle versori Insomma Ero nervosa Perché dicevo Non mi piace Così devo trovare una soluzione Non avevo maschera Non avevo shampoo Mi sono fatto il primo shampoo Con lo shampoo Di mio figlio La seconda volta Siccome noi non potevamo Scendere a fare la spesa Ho chiesto alla mia vicina Di casa Poverina Nella sua spesa Che ha ordinato Di farmi pervenire Lo shampoo e un balsamo Che a me E poi mio marito Insomma Nella spesa Post Ho ordinato la maschera Che Ancora però Non ho fatto Perché Mi è arrivata da poco Ieri E ovviamente Ho preso Quella di fructis Lisciante Alla macadamia Che mi avete consigliato voi Quindi Nel prossimo shampoo Vedremo In pratica Cosa è successo Che mettendo a posto E riordinando Sono usciti Cadaveri Ma letteralmente Cadaveri Riperti Del 15-18 Quindi ho trovato Questa piastra Mio marito Nella disperazione Più totale Che non riusciva Più a vedermi In quelle condizioni E tu te la passo Tu si vabbè Tu me lo bruci Il capello Comunque Alla fine Ho provato A passarmela E come vedete Il risultato È abbastanza decente Non bello Come la mia parrucchiera Quindi Annelisa La prima cosa Che farò Sarà venire da te Io mi tengo informata Come riaprirete Io sono La prima La prima Che correrà lì Da te Poi Ovviamente E questo Sono proprio Di pari Meglio Cioè La farò venire Dal parrucchiere L'estetista Perché proprio La prima cosa È il parrucchiere Il secondo L'estetista Poi Il secondo punto Ovviamente Shopping In Colombia Se non ci fosse un domani Pure uno Due Tre giorni Ma Ma è disperatissimo Proprio Ma proprio Andare fisicamente Nei negozi Spurciare Toccare Testare Testare I prodotti Mamma mia Mio marito fa Speriamo che Prolunghare la quarantena Perché ha capito Perché ha capito Poi Al terzo posto Ovviamente Ci sono sempre loro Le mie adoratissime amiche Il pensiero Sempre con loro Quindi ripristinare Questo prazzo Questo momento nostro Finalmente Fisso Una volta a settimana Proprio Di leggerezza Di respiro Di gioia Perché gioia Perché magari In quel momento State bene Non capite Quanto sia importante Lo capite Dopo Se vedete Le cariatidi Che ho oggi Come Bijou Sono È un completo Che era Di mia nonna Quella che non c'è più E L'ho messo Così Per sentirmela Più vicina Per Per cambiare un po' Per Ogni tanto Io lo indosso Comunque Nonostante È un po' Vecchiotto È un po' Age Poi se non Più Non è nulla Di valore Però Ogni tanto A me piace Indossare Le sue cose Per sentirmela Vicino Poi Quindi Gli ultimi Due punti Il nono Punto Rory Sei tu Il nono Punto Quindi Il nono Punto Quando ti sentirai Pronta Un pomeriggio Insieme Di te Un video Insieme Di te Io e te In esclusiva Senza il nano malefico Che il mio figlio E senza nessuno A romperci le scatole Proprio un pomeriggio Leggero 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 Top 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 Tutto dedicato A noi Tutto Per noi Quindi Aspettatevi Come tutto questo Finirà Un video Con la zia Rory La convincerò Ok Come Come D'altronde Un sacco Di voi Mi avete Chiesto Quindi Vivi Rory Le dobbiamo Accontentare Ciao Camilla Perché so che i suoi cagnolini Mi vedono Perché lei mi mette sullo schermo Uno del televisore Fa il collegamento E quindi Cami Camilla Io la chiamo L'inizio a sbagliare Mi fa morire Mi prende in giro Fa non la chiamare Mi ha fatto impazzire i cani La volta precedente Sì Ogni tanto Un po' di pazzia Ci vuole Ok E poi Per ultimo Ovviamente Se riesco a farli Tutti in un giorno Queste cose È meglio Perché Sarò talmente Disperata Che Andare al mare Portare il mio figlio Al mare Ma non solo Questo esempio Mi piacerebbe organizzare Con i miei genitori Con i miei suoceri Con Con mia nipoto Anche con mia zia Rory Soprattutto Con mia zia Rory Perché è la casa al mare Quindi Ci metteremo Abbiamo quello Ed estate Fisso da lei A scrocco Ma andare A Pessum Che è un luogo Molto importante Per me Perché è lì Che mi sono sposata Quindi Ritornare nella chiesetta Un giro ai tempi Nella chiesetta Paleocristiano Dove io mi sono sposata E Così Ricordare In bei tempi andati Ci sta Ragazzi Ci sta Un po' di malinconia finale Un po' di Mh Nostalgia Nostalgia 17 minuti Senza pensieri Com'è Vi mando un bacio Vi do appuntamento Al prossimo video Vi ricordo Di aggiungere Tre mochi Perché lì Ci potrebbe essere Una sorpresa Per una di voi Il 31 marzo E Detto questo Niente Se vi va Iscrivetevi al mio canale Per sostenermi Un bacio Per sostenermi Screch Min